Ma come fai a scaricare la responsabilità di questa crisi sui pensionati? Alla Leopolda si alza uno, che certo non è una persona che viene da nulla, va al microfono e dice che se l'Italia è ridotta così è colpa dei pensionati che sono andati in pensione con il sistema retributivo e dei sindacati. E la platea applaude, è quello che mi preoccupa. E' per questo che io dico che non voglio un partito democratico che stia dentro quel solco lì, ma voglio un partito che riscopra con orgoglio le ragioni e i valori della sinistra e discutere tecnicamente delle diverse soluzioni di un'imposta patrimoniale non è un modo di punire la ricchezza, è un modo all'opposto di chiamare al senso della responsabilità una parte delle elite di questo paese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!